Allora ragazzi qua eravamo ritornati perché erano fome Ragazzi devo togliere Minecraft Tanto sicuramente so che non funzionerà Però vediamo Tanto lo so che non mi funzionerà Perché ho dovuto toglierlo Però adesso vediamo Se va molto meglio Allora ragazzi adesso Voi in questo esatto momento Quando starete guardando il video Mettete sotto nei commenti dei giochi Anche se so che non siete in tanti Al massimo sarete in dieci Comunque mettete dei giochi Del nome dei giochi che volete Che volete che Olti vi porti sul canale Così noi provvederemo Anche un po' tipo delle challenge Ecco anche si Noi proveremo a portarvele sul canale Se poi non ci riusciamo Proveremo a fare una cosa simile Però comunque noi ci saremo sempre Se dobbiamo fare una cosa Di queste cose qua Oh ecco qui Adesso ritorniamo nel mondo E continuiamo a rimettere un po' a posto La cosa Mi dispiace tantissimo Che siamo andati Io ho voluto andare in creativa Ma per mettere a posto La camera della nuova Simona Siamo dovuti Andare a rimettere a posto questo Adesso mettiamo Ok stanza del mio caro Amico fan Stanza libera Stanza libera come? Verde Adesso noi Scusate Rimettiamo un po' a posto Scusate per il disagio Scusate per il disagio Scusate come Spacchiamo tutte le nostre cose Anche il letto dovresti Ahia No non è vero Sì il letto dovresti fare Lo verde Ah sì? Eh scusa Emo il verde Comunque togliamo Scusate per il disagio Scusate ma io qua sotto Cosa ci devi fare? Non so cosa voglio fare Beh continui Oh la libreria Eh lo so Mi dispiace tantissimo Ma è capitato così Scrivete nei commenti Se volete qualcosa Non posso Insomma noi Potremmo fare una serie Di minecraft Tutta dove Ci dite voi Cosa fare È vero Anche dei miei Eee Ah sì Sì Sbaccato Meglio 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 In una serie dove Praticamente se troviamo una magione Possiamo anche distruggere Con la TNT Ma quello se funziona la TNT Perché c'è un bug che Ormai non ci fa più funzionare la TNT Non so perché Cioè io provo ad accenderla la TNT Ma non funziona Non so perché Allora te Signorina 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 Non so come ti chiamano Simona Simona ecco Come la vuoi la stanza Perché io te la potrei Scrivelo sotto nei commenti Sul tuo account Basta con sto Basta con sto Basta con sto cosa Allora noi ti potremmo fare anche una stanza con dentro qualcosa Allora noi possiamo allargare un po' qua la stanza Allargarla del tutto Poi io Noi Io e lui Io e il fratello Iniziamo a farci qualcosa Poi Tu ci dici se va bene Come te l'abbiamo messa a posto Se non ti va bene Basta che ci scrivi Sui commenti Ah guarda Così non mi piace Ce la puoi Me la puoi Mi puoi tipo Mettere la testa Dell'Ender Dragon E noi te la possiamo mettere Adesso come sono ricordato Se vuoi Te la possiamo anche mettere tranquillamente Poi Troppo Troppo basso Sto cosa Poi Dopo che abbiamo finito Sto cosa Secondo me possiamo anche la smettere Perché Penso che Cioè non penso che continueremo Cioè continueremo Questi erano Due o tre episodi Solo per farvi vedere Una casa fatta da lui No ma continueremo Anche perché Dobbiamo fare anche tutto il villaggio Però Poi per adesso È il castello Che si chiama Castello Casa città Poi Se volete che costruiamo anche La città Basta che ce lo dite Perché noi possiamo tranquillamente farla Però ci vuole tanto tempo E tante Tante persone Che ci sostengono Allora se questo video C'è anche un seme C'è anche un seme di una serie Che volete Anche dei Sì ma quella non è una casa nostra Cioè abbiamo a casa degli zii Che sono anche qua Però Pochissime volte Ci ritorneremo E quindi Poi abbiamo Poi abbiamo anche una prestation Nella nostra seconda casa A Bari Ma non Cioè ci andiamo Una settimana all'anno A Bari E quindi Pochissime volte Ci andiamo a Bari Per giocarci Quindi Cioè E così via What the fuck Eh what the fuck Ti faccio un what the fuck La prossima volta Scusate ma Il nostro ladro Che va a mettere i cosi I Ecco i delfini E il nostro carissimo Martin04 Eh no perché E' lui Che fa questi scherzetti A me sempre Però Mi è piaciuto Perché Anche se I delfini Scusa me l'hai detto te Che ti piacciono i delfini Sì però No sono quattro Uno Due Tre E quattro Ma Vedi che c'è la linea Uno Due Tre Quattro C'è la linea Che le divide Ma ste Conti Non è Quello Vabbè Devo fare cinque volte Allora la prima cosa Che ti possiamo fare Lì sono tre volte E chi pa Ma vedi che sono tre No guarda Cosa fai Devo fare un altro po' più largo Perché non ci sta La cosa che volevo fare Allora ti possiamo mettere Simona Siccome tu sei la mia prima fan Che mi ha voluto Secondo La seconda fan Che mi ha chiesto Qualcosa Cioè la verità Di femmina è stata la prima Sì infatti Se poi ci sono delle femmine Che tipo Dicono Sono pazza di te Perché ci so C'è stata una femmina Che ha detto così Matteo Lo so Ed si chiama È la sorella È la sorella Di Damiana Il nostro Tu no fan Che ha detto Ah sono pazza di te Sono pazza di te E poi sono venuta A scoprire Che lei in realtà È fidanzata di un altro E mi ha lasciato Proprio deluso Aspetta aspetta Com'è che Però Non mi viene adesso Oh Le fidanzate Non è che possono sempre essere Sì lo so Adesso c'era Un caso Come che si diceva Ecco Sei stato frenzonato Frenzonato da una ragazza Vabbè però Che non manco conoscevi Vabbè Ma Che proprio non conoscevo Se passo conoscenza con lei Allora Vediamo se adesso Allora Dovete sapere Cari fan Che lui Io Lui Qualche volta Io gli dicevo Fai la La Come è la visione Questa insomma La biblioteca Lui mi faceva Mi lo sbagliava sempre Per la simmetria O roba del genere Comunque Ecco Oh Ce l'abbiamo fatta Prende una normale Vabbè Cosa Ma togli Cosa Cosa stai Togli quello Ma così non passa Se metti quelli non passa Così è brutto Non è brutto Togli quella linea È bellissima Sì è bellissima Sto ragazzo È bellissima Mi è Vedi che Affiladezza 3 Contracolpo 1 Affiladezza 1 Porca Putta No Non volevo questa Io Affiladezza 1 Ci sa Cheggio 1 Figo Aspetto Di fuoco 1 Flagello Fai Questo Troppo Di Non so Che cazzo Fa Allora Oh Incanta anche il piccolo Non posso Incantarlo Un piccolo No Fortuna 2 Efficienza 1 Indistruttibilità 1 Indistruttibilità Fa indistruttibilità Ah e poi Prendilo Rimettilo Aspetta Rimettilo Che cazzo Perché devo rimetterlo Ah non puoi Ah no Che non posso Ma per il livello O perché Vabbè raga Io non sono Proprio Espertissimo Sulla roba Di magia Infatti Si vede Cosa No Così No Poi Così Si Ci mettiamo Tutte le spade Incantate Anche il piccone Anche il piccone Eh si Incantato Adesso andiamo Incantare altre cose Vedere se troviamo Eh si Cosa Vai incantare Spade Un'altra Così Spade Fai quella d'oro Spade Fai quella d'oro Spade 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 No dobbiamo fare il video No dobbiamo fare il video Allora ci abbiamo Indistruttibilità 1 Contracolpo 1 Aspetto di fuoco Aspetto di fuoco Prendo Vai così che se Vai mette a chiudere un attimo E mettiamo anche quest'altra spada Poi ci abbiamo Questa spada qui Che abbiamo Anatema 1 Distruttibilità 2 Fragile Contracolpo 1 Fragile Degli antropodi 1 E saccheggio Dove Saccheggio 2 Fai così che si saccheggia tutto Contracolpo 1 Anatema 2 Anatema 3 Fai Anatema 3 Ma poi Anatema 2 Perché poi Dobbiamo riattaccarla Con il coso Poi ci abbiamo Indistruttibilità Contracolpo 1 Saccheggio 1 Fai il controcolpo Che è l'unica che ci manca Sì perché se queste Vai 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 Perché l'hai buttata Fragile Degli antropodi Affilatezza 1 Saccheggio 2 Fai Fai affilatezza Affilatezza Che ci manca Indistruttibilità 1 Indistruttibilità 2 Fragile Degli antropodi 3 Fai Fragile Degli antropodi 3 Ecco ovviamente Questa è un restocco Contracolpo 1 Contracolpo 1 Fragile Degli antropodi 3 Fai Contracolpo 1 E quello là Che costa me No no Quell'altro Questo Sono uguale Sono uguali Allora Fragile Fragile Degli antropodi 1 Contracolpo 1 Fragile Degli antropodi Era Fragile Degli antropodi 1 1 Questa è la filatezza Sì Questo Contracolpo Oppure Non la prendiamo Cioè non possiamo Non prenderla Hai buttato una spada Che palle Tutte le spade Che abbiamo Inchantato Le mettiamo qui L'ho buttata Comunque sì Prendiamo l'ultima spada Che è qui Che aveva Sì Adesso passiamo ai Le asce Oh Stavolta Prendine una Sì No Sì No Dai una Dopo Una Dopo Adesso una Dopo Ecco adesso Questa Dopo Non ti rompo più le palle Dopo Facciamo anche quella d'oro Palle No De d'oro Te ne salve una Non tante Oh la filatezza Ah una trema Quella è una trema Filatezza uno Efficienza due Fortuna uno Fai fortuna uno Facciamo quella d'oro Indistribilità uno Attena due Filatezza Fai affilatezza due Vi ripeto Non le sto scegliendo a caso Anche se sembra così Filatezza uno Su riscaldamento C'è la frizzetta Si sta Su riscaldando Filatezza Tutte Questa Plenazione Con Punto Mario Punto Mario Pi 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 Subito Subito C'è la frizzetta